C'è 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 c'è, che bellino, rosso a rollo! Marco Serrelli e Stefano Schiru per noi, Marco, grande protagonista in questa partita, tre gol, gol qualificazione, non ve lo sareste mai aspettati probabilmente dopo due giornate, sei punti, qualificazione venuta con l'anticipo in un girone parecchio tosto con i campioni della Serie A e i campioni del girone A della Sunday Cup. Sì, è stata dura, però siamo riusciti a prendere questi tre punti fondamentali. Marco, senti, l'attacco per te è un ruolo nuovo? Diciamo di sì, ci proviamo, come va va. Senti, una bella scossa anche per il titolo cannonieri, cosa ne pensi? No, no, non pensiamo a questi titoli, sono tra le altre persone. Per lui, il nostro top player della squadra. A questo punto, Marco, nell'ultima gara da giocarsi contro la Branca Leone, vi basta un punto per arrivare primi? No, nessun biscotto, nessun biscotto, continuiamo per le vittorie. Grazie.